Ciao a tutti ragazzi, buoni tutti, questo è un nuovo video di Banigolf Isaac No, Banigolf Legends, scusatemi, Afterbirth Io sono Leon e siamo qui oggi per failare un intro, a quanto pare, fare una nuova partita Per essere precisi, ok, adesso mi sento tranquillo Per essere precisi, cercheremo una partita Con Charizard Reinhard L'avevo giocata la partita con Charizard, sì, però mi sa che non è Reinhard Esatto Non lo so in realtà, sì, l'avevo giocata però non è Reinhard, era in grid mode Ho questo ricordo Va bene In ogni caso, leviamoci subito l'oggetto, il trinket che ha, il possiede di full e l'hazazel di questa mod Che è una bella stanza del sacrificio Genuinamente, è una bella stanza del sacrificio Ha un mini brim, mio dio, ma che bell'inizio Ma quanto è bello sto inizio Ok Allora Sider, questa aiuta B7GF e AGX Godetevela tutta Che i miei centesimi Cioè i centesimi che raccolgo ogni tanto valgono doppio Poi 5 centesimi 5 bombe, le bombe non mi fanno più male Anzi, mi curano i cuori rossi Eh, due cuori neri Eh, credo di aver nominato tutto ciò che ho ottenuto nella prima stanza Tipo, nel primo paio di stanze Che sto perdendo in questa, perché è una bruttissima stanza Per me in questo momento, più che altro Va bene Eh, ok Che culo Non ho molto da dire, veramente Che bu... Merito di prendere quel danno Per controbilanciare la fortuna Che ottimo Karma, grazie Karma Grazie Karma non intendo Carmageddon Ok Questa era stupida Però va bene, la dovevo fare No, grazie Karma Il Karma a volte è gentile Eh, non mi ha dato niente di buono Qua prendo un HP up più consumabili Lo sacci? Sì, però credo che lo saccia Che consumabili mi dà? Ok, consumabili proprio a caso Più un HP up Che è quella la cosa buona e giusta Che mi piace Inoltre faccio esplodere questo E questo, perché sì Ne valsa appena solo per le bombe Andiamo Niente, è fatto non salta in primo piano Peccato, perché se no ci sarebbe stato, credo, Brimstone No, no, neanche Brimstone Range up al massimo Perché non sprechiamo col doppio Brimstone No, ci sarebbe stato, non lo so, l'universo Più o meno Nel mezzo E l'altro, il boss però In realtà, cioè, l'altro Il boss, almeno viene considerato tale In realtà sono tutti e due dei nemici da sconfiggere Quindi non mi cambia più o meno In realtà non mi cambia che viene considerato boss o meno Uno evoca, l'altro no Eeeh Basta Morto Grazie Questo è un altro HP up Più shot speed up Che però non mi interessa E direi che Nice match Nice start Ok, mi valsa appena a giocare questa Andiamo Eeeh Mi dai Troll bomb Troll bomb non mi fa male Quindi Non mi interessa Grazie per riguerci i cuori di fede In quantità abbastanza grande Da farmi dire yay E andiamo avanti Ora Sta stanza Retro treasure room Ok, vabbè Oggetto non è niente di che Però credo di poterci uscire Da questa stanza forse Si esatto Il nemico lo ignoriamo Ciao L'obsession fan Segue i miei movimenti E fa danno ai nemici Che ci passano sopra Fine Little unicorn Ah ok Segue il mio movimento Cioè nel senso Io do il movimento al mouse Da sinistra per le lacrime Lui va a sinistra Quindi Non è un problema Eeeh Robo baby 2.0 Giusto per farvi capire Perché lo stavo spiegando Estranamente male Dire roba baby 2.0 Già dall'inizio Era problematico Per il mio cervello A conto pare Eeeh Salve Peccato Perché potevi fare di meglio Questi non li prendo Però Eeeh Concordo con il fatto Che ti stai mettendo Di impegno Ma tu non sei capace Di gestire Cioè almeno Di andare a pari Con il resto della fortuna Posso capirlo Non mi offendo Anzi Va bene Mercante Capisco Capisco Eeeh Beh vado avanti Ignoro Però io Io continuerò a tornare Voglio comunque provare A vedere se tu riesci A vendermi qualcosa Va bene Ci vediamo dopo Capisci che Leone comincia ad avere Dei problemi mentali Quando inizia la partita E già sta parlando Da solo Ok Va bene Ma sono dettagli Salve Ok Eeeh Si è incazzato Si era abbastanza incazzato E non me l'aspettavo Questa cosa Proprio Ho avuto un attimo Di incazzatura Eeeh Estus Flak Re Ah range Shot speed up Grazie E io prendo Un multi dimensional baby E possiamo andare avanti Perché quando i colpi Passano attraverso di lui Diventano due Due brimstone E' presunta Radova piano in range In teoria Da lui Quindi Carino Abbastanza carino Spero tu se lo fai tipo Verso la fine Così Fa il doppio range Ma va bene Non è niente di troppo importante Ho preso un danno Stupido Possiamo andare Possiamo tranquillamente andare Charizard Non è un leggendario Però è un pokemon Abbastanza figo Da meritare Secondo me Il posto qui Perché È abbastanza figo Visto che E come si può dire Forget me now Oh grazie Facciamo anche un piano extra Cioè ci lo facciamo Visto che fa abbastanza male E' ok Cioè fa abbastanza male Un pokemon di tipo Fuoco Molto forte Chi da piccolo Non aveva mai pensato Che esso Fosse un tipo drago All'inizio La prima volta Che l'aveva visto Magari in copertina Tutti l'hanno pensato Tanto che Finalmente Con Charizard X La mega evoluzione Era un altro tipo Drago fuoco Che era Quello che aspettavano tutti Viene Credo che sia anche Uno di Cioè L'unico pokemon di Lens Nella lega Di Yotto Dio L'ho giocato anche di recente Per questo mi sto ponendo Il problema di dire Una cosa giusta Ehm Lens della lega di Yotto A non essere Tipo drago Ma ce l'aveva Io mi ricordo che ce l'ha Però non ne sono al 100% sicuro Perché ora Ho un vuoto di memoria Dovevo dare a riguardare I miei stessi video Sapete No volevo farmi spedire di là Utilizzando la trolbo Che palle Vabbè Aia In ogni caso Sto giocando Sgargiulo Perché basta poco Per rendere questa partita vinta Fammi entrare qua dentro Oggetto di Gappi Salve Andiamocene via da qui Wart Entrata là dentro È stata Wart Assolutamente nel mio tempo Perché oggetto di Gappi Significa Un oggetto di Gappi E un oggetto di Gappi In futuro Può portare a trasformazione di Gappi O comunque di Mew Come la vuoi chiamare Ehm Che Beh Evoca Mosche Quando io colpisco i nemici Cioè salve È forte È veramente forte Non c'è molto a dire Niente Niente di più Niente di più Niente di meno a dire Semplicemente Qualcosa di molto 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 forte Quindi Se è possibile ottenerla Noi faremo di tutto Per ottenerla Ora qua mi dai PhD Che mi va bene Pillola mi dà pure per giunta Vedo tutte le pillole Sono tutte positive Grazie Mi prendo questo cuore di Fed Ehm Ti dono Roba a te Però prima Aspetta ti faccio esplodere Devo farlo prima Perché poteva darmi saldi di Steam Che cosa mi offri? Eh Eh Abyss al shell Ah E non è male E non è male Potrei non cedere a forget me now Mi sa lo faccio Eh no No in realtà Ecco il fatto è Potrebbero esserci Potrebbero esserci Roba veramente buona Potrebbe non esserci nulla Generale Lampada vai Fagli una marea di danno e mezzo Che mi aspetto tu faccia Ok Che è upa chiaramente Eh Te sei Pigeon boy Il fatto è Io non so che pillole ci sono Quello è il problema Se so che ci fosse Una tears up E una range up Lo farei Ma una range up Non so che c'è Se c'è Ah cavolo Non conviene Conviene fare questo C'è teoricamente Più sicuro fare questo Perché è il doppio della roba Però se ho tempo Quello era sicuro Ok un calcolo Che non era fattibile Da me in questo momento Fine Grazie per i perks Buon suo stile Ottimo Conveniva ma non conveniva Dipende Assolutamente dipende Ora abbiamo Una buona chance Di ottenere qualcosa di buono qua Due oggetti extra Ecco Il fatto è che Quelle pillole Per tutta la partita Dovevano controbilaggiarmi Due oggetti extra Non lo so se ce l'avrebbero fatta Perché dipende Tutto e tutto Soltanto da una cosa Cioè c'erano meno range up Limon party Finora sembra di no Quindi non mi devo preoccupare Per cosa tengo Magari andiamo direttamente A andarci a lavorare Qualcosina Non ho oggetti Che Di aumento del danno Oggetti del patto Di satana Li definisco così Ma in realtà Per essere precisi È una sequenza di oggetti Che sono Equiparabili A definizione Malvagio Che io non mi ricordo mai Perché è un trigger Che prendo poco E quando lo prendo C'erli ho E c'erli ho E me ne frego Ok Per ricordarsi La pronuncia Di questo pokemon Ikans Lo dico così Però Forse Ikans Sarebbe letterario Non ho idea Dovete ricordarvi Una e due Grazie Treasure map Vedo tutta la mappa Adesso No volevo prendermi Questa esplosione in faccia Full alt Carina Ma no grazie Ok Ikans Ikans Per ricordarvi Per ricordarvi come si scrive Perché Non lo so Non si sa mai Magari Non ve lo dimenticate Ho visto tanta roba brutta Su youtube Pensate che È Snake Al contrario Quindi Ikans Di dire Che non ho detto Nei video Che ho registrato Già oggi Ragazzi Afterbirth plus Annunciato Il 3 gennaio Fluid di video Appena esce Fluid di video Appena esce Non vi preoccupate Ho già Ho già preparato Gli avvisi Di registrazione In singolo Il giorno stesso Che io Non mi farò vedere Mai più in giro Per quella giornata E per i seguenti 20 giorni dopo Neanche a scuola Salto tutto ciò Che è saltabile Te ti prendo Te mi dai cuori Mi da due cuori Per uno Quindi ok Grazie Fammi scendere qua sotto Cosa c'è di bello Qui Una zona platform Che conterrà Bombs perfume Non male Non male Assolutamente Visto che è un tears up Mi ha tolto tears In realtà Ma dovrebbe darmele Problemi di base In ogni caso Manca la stanza del tesoro Giusto In ogni caso Quello che volevo dire È che la mia mente Vi sta bloccando È che At gennaio Cercherò Allora Tenetevi pronti Sesh Ok Se il gioco Diventa disponibile Verso le sei Vi faccio parlare Un paio di calcoli I video usciranno Se è possibile Dalle otto Alle nove E ne caricherò Più di uno A sera Cioè Proprio di sera Di giornata Ne caricherò Più di uno Quindi Quando arriverà il giorno Ok Il 3 gennaio Ci sarà Un Proprio un flood Di video E il giorno dopo Una coop Se ce la faccio Forse Se ci riesco L'organizzo Tu lo sai Stai guardando Questo video Ce l'hai già La prenotazione E soltanto Dovremmo soltanto Deciderlo Perché Lo sapete Qui sto parlando No E l'ha già fatta Il coop Con me Quindi Io Ti affaccio Già la prenotazione Perché dobbiamo Io mi chiudo Io mi ci chiudo Non mi vedono Più i miei amici Per le vacanze Io scompaio Dalla Dalla vita Sociale Non esisterà Più per un paio Di giorni Registrazione 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 Completamento Della serie Eia Guarda È partito in saldo Perché era Talmente improbabile Qualcosa Completamento Di appolloion Nuovo capitolo Extra 55 più oggetti Ecco Dobbiamo Dobbiamo finirlo In due giorni Dovevo finire Io questo gioco In due giorni Ok Lo devo finire Quando esce Il 2 genio Lo devo finire In breve tempo Voglio Il 2001 Per cento Quello che è 2002 Quella roba lì Lo voglio Lo devo avere Nel miglior tempo possibile Il completamento Il marchio Di completamento Del gioco Che stavolta Lui lo voglio finire Nel miglior tempo possibile Il mio obiettivo No Non ti prendo neanche morto A te Scusarmi Obiettivi Hashtag Letteralmente Non me ne frega nulla Costo della mia sanità mentale Che intanto Già è partita Tempo fa Costo di tutto Addio alle amicizie Addio a tutti Io solo Isaac Fide Ciao Stato bello Sei un TechX Falso TechX Oculus Non sei Word del mio tempo Ok Va bene Ok ho spiegato La cosa Non mi vedrete più Questo video È da far passare Anche ai miei familiari Perché Normalmente Faranno denuncia Di scomparsa Perché Non mi vedranno mai più Scompaio Mi porto via il computer Tutto Lo metto in uno stanzino privato Faccio finta di essere Rapito Come citando Coglioni Che hanno fatto cose Mi ricette stupide Faccio finta che Sono stato rapito Faccio finta che Non esisto Io non ci sono Veramente Sono scomparso L'unica cosa Che dovete darmi È lasciarmi in pace A registrare fine Non chiedo altro Si toglie il damage Pirenge up Ok questa cosa Mi piace Perché adesso Dovrei avere un range Decente Vi ho spiegato Perché ci saranno Fluid di fluid di fluid di fluid di fluid di video Il boss può essere O tipo Una stanzina in alto a destra O qua in basso Quindi Prima di andare in basso Magari ci sono anche Le stanze Eh no Stanze Purtroppo Niente stanze Proviamo Dai magari Ci facciamo prima il boss Aspetta Questa è Necropolis Si ok posso farlo Prima del boss Va bene Devo soltanto decidermi Mi piace il fatto Che Ho un range Del brimstone Molto alto Cosa che non è così tanto Ormai Oh stanza del tesoro grande Dovrebbe darmi soddisfazioni In confronto al solito Sono Comunque Eccitatissimo Non vedo là che esca Non vedo là che sia il giorno E vi là Peccato Peccato che non sei utile Nel senso Perché non ci servi Ah non ho 15 centesimi Quindi niente negozio Ho deciso Basta Sono Sono entrato in modalità Chi se ne frega Ho 9 di danno Un brimstone Il mondo Non ha più bisogno di me 9 di danno Brimstone Requiem tier Speed shot speed up Bene Ottimo Te prendo Questo Grazie Giudizio Ottimo Doppio giudizio Perfetto Dammi i centesimi Ci doniamo Ci doniamo l'anima A questi due Una luck up Perfetto Diamo gioco Andiamo lì l'anima Questi due Vediamo Magari mi danno la bussola La bussola sarebbe fantastica Ora Dai bussola 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 dai Su che la bussola mi serve Dammi la bussola Dammi la bussola No mi dai box Roba Un attimo che Si c'era un altro Un attimo Penso che non ci fosse Questa cos'è Ashed Non sono un pokemon Ti do ragione Relax Grazie Su space Moltiplichiamo le chiavi Niente di che Alla fine Il negozio è valido Ah maledizione 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 Ok Chevo che avesse sbloccato Qualcosa di strano Per un attimo Sto dicendo Quote Ok In ogni caso Non ci è venuto da dire 3 gennaio 3 gennaio Di sera Molto probabilmente Se non esci di mattina Probabilmente mi metterò Sveglia alle 7 Io quel giorno Se non danno orario Per l'uscita Del Del Di afterbirth plus Se non gli danno un orario Sveglia alle 7 Di mattina E durante le vacanze Mi sveglio Minimo Minimo Verso Quando sono preso Bene 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 Salve te Muori Grazie Mi sveglio Minimo Minimo Quando sono preso Bene Che ne so Alle 10 Io devo essere preso Benissimo Quel giorno Cioè normalmente Mai Però è Afterbirth plus E io Non posso Oggettivamente Negarmi Il fatto Che uno Devo portarlo Il prima possibile Perché Vi sveglio il coso Quando esce Un dirci Molto aspettato Da una community Portare per primo I video Sveglia Sveglia Dai primi Nella barra Di ricerca Aumenta il mio pubblico Aumenta il mio pubblico Aumenta il mio denaro E lo ammetto Non è una cosa Così falsa Se faccio un video Prima di un gioco Appena uscito È per quel motivo Coglione Quello che dice Il contrario Cioè Nel senso Coglione Nel senso Che Chi non lo ammette Sta soltanto Mentendo a voi È vera la cosa Se non me ne potrei fregare Ok Che poi Io me ne frego Per un altro motivo Nel senso Che mando sempre Dai Esperimenta il treatment Ho aumentato le tears Mi va bene Telepis No Joker E dammi la black card C'era il Joker qua Controlliamo subito Sì sì C'era Ok Non me lo ricordavo Era un attimo di vuoto Può succedere Te mi dai questo Dammi anche questo Sì Bomba Vai Avremo sempre patti con satanasso Adesso Perfetto Chi non lo ammette Comunque Parte vista mentendo Perché è vero Fare i video di giochi appena usciti Si basa su quello Quando sono giochi Che hanno hype Quando sono giochi sconosciuti E fai video di giochi appena usciti Sconosciuti È raro Che aumenti La La tua La tua persona Cioè il tuo canale Aumenti di iscritti O di visualizzazioni Per esempio Io non me l'aspettavo Questa cosa E lo dico tranquillamente Che sarebbe aumentato Iscritti o di visualizzazioni Quando ho cominciato a fare Undertale Perché io credevo Che Undertale Non sarebbe cagato nessuno Poi Mio dio Quanto mi sono sbagliato Voi potreste dire Io vi dico Avete ragione Perché Mai fu più sbagliata Quell'idea Di fondo Visto che Undertale Ha sancito Veramente La crescita Definitiva Del mio canale Se non fosse per Undertale Io non sono una persona Che sputa Nel piatto Nel piatto In cui ho mangiato Se fosse per Undertale Io sono Più che certo Non avrei questi iscritti O queste visual Tuttora Perché c'è gente ancora Che mi guarda Tutti i video di teorie Tutti i video degli AU C'è tutta C'è Quegli AU Sarò finiti ancora Ne farò V Ancora un po' In teoria è una serie Che può durare In infinito Quindi Dipende Quando mi stupero Di farne Molto probabilmente Potrebbe anche essere mai Potrebbe essere domani Per dirvi Anche se questo periodo Non ne sto facendo Perché la mia vita È bella Letteralmente Perché non è il tempo materiale Fine Non è il tempo materiale Per dirvi Martedì Che non so quando esce Questo video Forse esce proprio martedì Io sto registrando Io sto registrando Una serie di video Per martedì Per motivi Molto praticissimi Buongiorissimo caffè Scusatemi Praticissimo Mi è partito Dovevo dire Cos'è Ok ciao Non ho vinto nulla Qua dentro Non mi faccio le stanze Allora E ce ne andiamo via Direto così Proviamo Devo farmi Però dipende molto Da quello che ottengo Devo farmi Un Il L'adoratissimo Dai lo sapete Non mi viene il termine Il Nostro adorato Amico Amico Fritz Nostro amore Adorato amico Fritz The Ash Devo provare a farlo Potrebbe essere Una partita Adeguata Ni in realtà Che Non c'era nulla In quelle stanze Che mi interessava Andiamo a destra Il boss può trovarsi O su o giù Io prima faccio La route di giù Perché mi permette Di visitare Più stanze al lato E quindi più possibilità Per la stanza del tesoro Negozio Che comunque Anche il negozio Essendo l'ultimo Lo visito Comunque la combo L'ho già tenuta due volte Ah Pokeball Ci sta Cioè Anche uno di ricarica Cioè proprio Ci starebbe tutto Facciamo una stanza Andare Ti catturo Vai Ok Ok Basta Devo smettere Di fare le citazioni Ci starebbe tutta Cioè è in tema Come cosa Però Questa è una combo Troppo buona Per poter dire di no Cioè come E bestemmiare Se no Salve te C'è esplodere Cos'è Questa Giù Versa Vediamo così Ok Perfetto Sono tranquillo Ora Facciamo di nuovo così Perché Stavolta Andiamo verso l'alto Grazie Questo Sono molto più contento Di prima Mi Prendo Common cold Mi prendo Il Raffreddore comune Il raffreddo Si Letteramente Si Che è quello Cioè nel senso che Un raffreddore Comune Quindi va bene Però Ok Non so cosa Volevo dire Questa frase Come la volessi Dire con questa frase So soltanto che In questo momento Mi sto preoccupando Della mia Insanità mentale Chiamarla Sanità mentale Una bestemmia Che ho un po' Perso ancora di più Quando ho cominciato A andare Per Il 3 Gennaio 3 gennaio Esce Ecco Con questa Che non ne avrò Assolutamente persa Tutta la mia Sanità mentale Eventuale Propria O meno Ma 3 gennaio 3 gennaio Tutti i miei video 3 gennaio Dico Farò un video 20 minuti 3 gennaio 3 gennaio 3 gennaio 3 gennaio 3 gennaio 3 gennaio Tutto così Dio mio 2000 iscritti in meno Poi 2000 iscritti in più Oh di dai Oh di dai Oh di dai Salve Tu devi venire con me Assolutamente Ciao Perché Potenza del danno Più si è preciso E non so se funziona Però io lo voglio Fine Non mi interessa Ormai è decisa Come cosa Possibilità di droppare Centesimi Quando uccido Nemici Cioè quando uccido Quando colpisco Nemici con le mie lacrime Non ho lacrime Doppio grid Eh in realtà puoi droppare Grid può droppare ogni volta Quindi Non è male come cosa Grazie De dai sei mio Adesso non so se de dai funziona Potrebbe non funzionare Non mi ricordo Se funzionasse Mi aumenta il danno Fì che non mi so colpi Ovviamente credo che non funzioni E infatti ricordo bene Però magari trovo un famiglio Che spara le mie lacrime Ecco per dirvi Eh Fatto un satana No però Me lo droppa A una stanza Ok E a quel punto De dai Entra in funzione Fin che quel famiglio colpisce Io faccio più danni Cioè È fantastico Il boss può essere Un po' Un paio di angoli Io confido che sia qui Non qui in tenso come Dove sono io adesso Ma qui in alto Dove controllare Per 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 Semi o cd Vedo Sì Assolutamente semi Perché non è o cd Però devo controllare Ah che bello Farsi fare danno a tutta la stanza Cosa mi dai qua Un cuore Dif Grazie Grazie Grazissimo Grazie Salve salve il salvino Salve il mio vicino Ok Non diventiamo Ned Flanders Siamo già usciti Abbastanza di brocca Ci tentiamo De Ash Cioè Ci potremmo buttare via Una bella partita Tentandoci De Ash Lo dico Tranquillamente Sì Arachnit Ci sono poche cose Più fastidiosi di te E un'altra Che è fastidiosa Quasi al tuo livello Perché ovviamente Tu sei più fastidioso Visto Anche se Condividete Lo stesso set Di attacchi Rompipalle Quello Questo Che è un po' troppo Un po' troppo casuali Alcuni attacchi che hanno Quindi mi danno fastidioso E due Però dammi bing E E Il nostro adorato amico Frizza Che ha amato anche Deadly of Lex Giusto? Vabbè Usiamo questo Salve In altri casi Avrei preso questo oggetto Ma stavolta no Se andiamo verso Il nostro Andiamo verso La nostra rovina Forse Molto probabilmente Andiamo Che manca esattamente Gioco Ah Volevi L'avevo capita Però L'avevo in parte capita Dabbi Bercano Voglio ricaricarmi l'oggetto Almeno una volta Possibilmente 3-4 Ma non posso farlo Quindi Niente Tiang e Mad Volo Mi basta un oggetto Di cappi E io ho ottenuto La trasformazione In cappi Quindi Il prossimo piano Io confido Il prossimo piano Ho compreso Quello di The Ash Intendo Confido di ottenere Qualcosa di bello Salve voi Centesimi a te Anche se Credo che non mi dai Nulla di buono Giusto? Bussola Restock Eh non è male Per la prossima cosa Non è male Partito Non è neanche un acuto Partito semplicemente Un po' di Un po' di roba brutta È partita Però va bene Troll bomb No Speed up Grazie Può essere utile Fallout Non ora Purtroppo Mi dispiace Ho abbastanza Chiavi Da potermi permettere Di fare Sta cosa Se normalmente Non la farei Altro a dire Vorrei il trinket Che mi permette Di aumentare La Vorrei Allora soldi Grazie Questi siti Vorrei abbastanza Dammi i soldi Che si moltiplicano Vorrei abbastanza Boh Cricket's head Cricketto head Bomba dorata Grazie Hyperclip Non ne ho bisogno Facciamo esplodere questo Perché non ho cuori Facciamo esplodere anche questo Normalmente avrei Forse portato Quella roba Lì Questa Al centro Però Meglio di Meglio di no Perché se no Non lo so Mi mandate a quel paese Il video aumenta di lunghezza Per nulla Dai su Il nostro obiettivo È molto chiaro Siamo ormai carichi Siamo pronti Ho delle tears Decenti Con un setup Che punta Di mille tears Non ne vale la pena Farti esplodere Sì Prendere quegli oggetti No Quindi Ciao Andiamo qui Restock Funziona abbastanza bene Prossimo piano Potremmo ottenere Più di un oggetto A seconda di quello Che droppa il gioco Dammi questa Che fa sempre bene Per l'eventuale Patto con satana Che mi potrebbe dare Ehm Earth of Madness Ovviamente Appena finisce questa situazione Io potrò rimanere Semi fermo E fargli il doppio del danno Semi fermo Oppure potrei rimanere Anche semi freddo A seconda di com'è Però devo decidermi Ok Ho preparato Una marea di colpi Però Lasciamo stare Il mio culo Qui dentro ci sono già stato Niente di che Non era worth Tutto il mio tempo Proviamo a vedere Cosa c'è di bello Qui da affrontare Dai Ehm Ultragrid 15 c'è Ultragrid Qui Mi stai dicendo E mi stai di sì Dai Prima di entrare qua dentro No Facciamo così Qual era la moda che metteva Ultragrid Qui Non mi ricordo Oramai Vuoti di memoria Su vuoti di memoria Ehm No Se è un suicidio Ehm Telepatia per scemi No Giocherizziamo Ehm Darkbam Oggetto di gappi Ti amo vita Ehm Darkbam Salve Nove vite Sono gappi Ehm Sacrificial dagger Lo prendiamo E andiamo Quindi qua posso ottenere Di interessante Ray of light Eh sì Ray of light Credo che sia la cosa più interessante qua E poi Basta Prima di mente basta Ok andiamo così A affrontare Mimic chamber Non è neanche Non è No Non lo è È falsa la cosa Ah quelli centrali Sono Non sono mimic Ok non è neanche Ci sono rimasto veramente male Non riesco a esprimermi Però non è neanche Che è successo a quello Cos'è questo esattamente Perché non sto prendendo Ah perché non prendo danni a esplosioni Ecco perché non prendo danni a qualcosa Vabbè io Penso a infiggere danni a lui Perché Così Intanto magari Non lo so Mi capita più o meno Il potenziamento Di svariati Universi Sopra di me Oggetto di gappi E' stato abbastanza insano Diventare gappi Anche qua Direttamente Quanta vita possiede Mi sembra che questi Ne possiedono invece Estremamente poca confronto E posso prendere Danni a lui Quindi Magari mi conviene Ok è morto Miriamo all'oro Freghiamoci Vai Posso comprarmi Quelli di fede A caso Non c'è bisogno Poi Bello scontro Ci sono rimasto male Però mi aspettavo Di peggio Da questa stanza Per quanto pare In realtà Era Easy peasy Più o meno Non troppo Ti prendo Ti poggio Non ne faccio nulla Di te Entriamo qua dentro Cuore di fede Cuore di fede Cuore di fede Dire che va bene Pappi Friati in the end Spara lacrime Sì Va bene Credo che possiamo Andare sopra E si va Partita che comunque Dura sui 29 minuti Ok ho fatto vedere Credo tutto In particolare Di questa mod Ora Facciamo un po' di sfide Faremo un po' di sfide Anche nei prossimi episodi Devo far vedere Sfanto un altro Po' di personaggi Però Non è un problema Ecco Mai stato Mai stato un problema Mai lo sarà L'eremita Non mi interessa Tra di trasportarmi a casa Mi tengo il joker Perché posso sfruttarlo Ancora una volta Oltre questa Ah le bombe Che bella battuta Quella che La gente che tenta Di farmi del male Con le bombe Te esplodi Te esplodi Tutti Tutti voi esplodete Grazie No non sono entrato In una modalità Voglio il mondo Voglio il mondo Inesplosivo Però Potrebbe Perché c'è il coso di twitch Non so se lo voglio sapere Esattamente Quello che sia quello di twitch Mi ricorda quello di twitch Poi magari fail Però dovrebbe essere quello Vabbè Muori Saldi di steam Sempre al momento giusto Ah sta Dovrebbero Secondo me tu Allora Fossi io Edmule Lo modificherei After it plus Così saldi di steam E li chiamerei Sempre al momento giusto Letteralmente Perché è incredibile Empty vessel Mi dovrebbe dare due cori neri Inoltre ogni tanto Attiva l'effetto Del negativo Mentre io Gioco a caso Non del negativo Del Neanche della polaroid Della Della vita intera Di gesù No aspetta Forse riesco a farmelo Venire in mente Entro domani L'effetto Del Bucoscedo Grazie Bravo leone Cinque figurato Non sono dato la solo Di testa Non sono dato Avete visto Perché io sono un idiota Perché io Cioè proprio Letteralmente Potrei fare tanta roba seria In questi video Ma no Io devo Io devo dire Cazzate su cazzate Che dicono cazzate Cazzate su cazzate Che dicono cazzate Sarebbe figa come cosa Vedere però Lasciamo stare In ogni caso Non so cosa mi ha dato Speed up Più Aumento di danno Più La mia vita è bella Shot speed up Credo in realtà Quindi ok Perché mi ha dato Speed Più shot speed E Quindi Fuffa Le tiers Sono forse al massimo No Ancora un po' Ccio E possono diminuirsi Se non erro Dei erofansalve Sono sempre due cuori Di fede gratis Andiamo per me A satana A averci una puri Dai una puri Una Mi viene Mi verrà Vabbè Quella pillola lì C'è Etan pool Andiamo ad affrontare Un'ala Che invece la vedo come Più topica Come questione Più topica Cioè più 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 sul pezzo Ecco Definiamola così E non Non diciamo cazzate Inoltre abbiamo fatto Una marea di danni E mezzo Abbiamo per giunta Il Il circolo completo Di protezione Quindi Chi se ne fe Un danno Me lo doveva fare E abbiamo il circolo Completo di protezione Cioè Dai 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 Che ce la puoi fare Le ore Vai vai Carica Carica Questo Demade Grazie Però quello è un aumento Di danno Prego Quindi aumento Di danno Sono Belzebua Anche Quindi tutte le mosche Saranno mie amiche Scissor Nutiri Anarchiskut Lo stesso Non so quello che volevo dire Trasportiamoci da satana Ti prendo in realtà Cioè Vale la pena Di essere preso Perché aumenti Le possibilità di drop Di chest Dorate Quindi vale la pena Non mi ricordo Cosa volessi dire Quindi andremo avanti Ce ne freghiamo Di questa cosa Sì Bella idea Bella idea come stesso Se avessi fatto Uccidere prima quello di destra Sarebbe stata una migliore cosa Però non fa nulla Ho il wafer Ho ufficialmente il wafer Quindi tutto bene Tutto a posto Tutto tranquillo Quello che volevo dire L'ho dimenticato Che bella la mia vita Ah mezzo danno Salve Benvenuto È il momento di prendere Mezzo danni stupidi Perché sono un idiota Non lo so Non lo so veramente Vabbè Salve voi Sono invulnerabile Morite Berserk Ok Io queste cose le facevo Anche senza la webcam Capite il mio disagio mentale Capite Sì ok Forse volevo dire Che magari Con questo setup Cosa assolutamente vera Il mio Vai vai Darkbam Corri Neanche le mosche Adesso del mio nemico Possono farmi qualcosa Possibile Oh effetti casuali Le tears Può in realtà essere buono Come se è una merda Dipende molto Da che effetti casuali Mi danno Per esempio Queste quadruple tears Le vorrei avere normalmente Perché preferisco avercene Cricket's head No Però mi ha dato Bloody lust Che è rage Non male Zero assoluto Ah blocco il tempo Credo Cioè blocco i miei avversari Per un breve tempo Ok Mentre invece Questo è chiaramente Il fastidio Lardo Dammi l'HP Mi va bene O che cosa Mi va bene Perché posso Rimanere in vita Per sempre Teoricamente Quindi Chi se ne Se io ci perdo Il coso L'effetto Andate mie mosche Non mi devo neanche preoccupare io L'effetto Dell'oggettino L'avevo prima Però Va bene Ah non possono farmi danno Solo le lacrime di questo qua Possono veramente farmi danno Quindi Letteralmente Chi se ne frega Andiamo su di lui Cioè giusto Il resto non può farmi danno Vero Verissimo Addio È stato bello 34 minuti Fatta Non mi ricordo Quello che volevo dire 3 gennaio Afterbirth Plus Spero che il video vi sia piaciuto Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Ciao